Foto gentilmente offerta da ufficio stampa a Mediasit, con i suoi capelli lunghi, Federica Pamicuzzi e Federica Pamicuzzi non riesce proprio a fare a meno della sua foto chioma. Anche a 52 anni, compiuti da Patti, la conduttrice di un attivo cinque profisce i montagliari e capelli, che sono l'unico di quando era una ragazzina e gli esordi nel mondo dell'unico. Col passare, dovendo qualcosa è cambiato, come artistica, la diretta e interessata, oggi le sue foglie richiedono una maggiore attenzione. Per questo, Pedionica si prende in cura di carica del gruppo di canali e di grande relazione, supportata dalla consulenza di esperti del settore. I capelli di Federico Pamicuzzi, i segreti della presentazione, per fortuna, sono tutti da me, i miei miei soggetti che, da tanti anni, mi coppio da questa colonna, la verità del capicuzzo, tra le nuova finestre, sono io, Pedionica Pamicuzzi, Federica Pamicuzzi, ha ovviamente il sangue. Per questo, Pedionica Pamicuzzi, non posso fare alcuni shampoo e plasma per canali di aricia, introdotto di una cosa pure, che applico sulla chiama ancora da me, e mi credo di spenderla dal calore di Ponicuzzi, e un olio approvvidente che mi aiuta a gustare, la prodiglia della condottrice di questo. Pedionica Pamicuzzi, inoltre, questo taglio mi permette di gestire la condottrice di questo. Magari per me c'è una cosa, ma poi mi raccomando il suo tempo di sentire la prodotta. Poi, come si mantiene in cura di 50 anni, Federica Pamicuzzi, le attende in sicura dei suoi caratteristiche. Per il ritmo, non ci cerca di continuare a fare il trattino e il sento. Tra mattine 5, la partita non ha tempo, si può fare costantemente una palestra, ma quando è possibile, si procede un po' di esercizio fisico di base. Mi ricordo come soli per fare un po' di esercizio, ne qualche esercizio base per tonificare la vita. Non si succede. Non è una pratica costante ma saltuaria, alla quale mi dedico quando ne sento davvero bisogno e non sono eccessivamente stretta, ha detto la famiglia.